bolle bolle è visto è inutile guardarle tanto si sa la bolletta del green network sale sale sempre più del previsto cristo ebbene è arrivata una bolletta poi metteci l'iva l'uova l'uva lava leva aveva l'aula uola via no questa scende no sale sale ammasso green network luce e gas fa gagare davvero e si gas